Il programma con la gara tra Ragazza sale QNC Piacenza contro la Balsa Grupo Modena poi alle 17 la Cegliela Trespa Taranto contro l'Allianz Grilano poi alle 17.30 la Sir Susavi Perugia contro la Rana Verona alle 18 la sfida tra Cisterna Volley Tass Trezzino e poi alle 19 la matricola UAS a parte di Grotta Anzolina Porto San Giorgio contro la PIT Verona Volley Monza a chiudere il programma di questa prima giornata a chiudere il programma di questa prima giornata a chiudere il programma di questa prima giornata Siamo potrelle il programma di questa prima giornata A chiudere i ragazzini a chiudere il programma di Presidente che ne riguardano tutti i ragazzini a chiudere di questa prima giornata a chiudere il programma di questa prima giornata l'opere culturalmente spira in un paese di un'altra presenza non è un'altra presenza e con di che non è un'altra presenza non è un'altra presenza se che ti poter sapere se ti dovrà e ti ho sognato c'è l'occasione di poter incontrare i cuocchi nella zona stand a vostra disposizione c'è Marco Polrashanin se volete andare a salutarlo lo trovate nella nostra zona stand dell'Official Store della Cucina Lube Civitanova ci trovate Marco che vi aspetta per un abbraccio un saluto e proprio là i cuocchi per salutare tutti i tifosi all'Official Store della Vole Lube Civitanova per la nostra giornata di poste a vostra se che non so il mio 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 Marco Marco Polrashanin e perché non il mio il mio il mio il mio Grazie a tutti. Grazie a tutti.